coloriamo insieme ecco un bellissimo autobus giallo grigio verde e parte per portare i bambini a scuola avete visto l'autobus serve per trasportare le persone eccoci arrivati ecco un camion trasportatore rosso grigio verde arancione blu giallo il camion sta trasportando dei blocchi colorati eccolo che va avanti si è fermato ed ecco un altro camion giallo grigio verde rosso questo è il camion disarca trasporta le automobili quando non possono andare da sole a